Tutti in Italia ci sono, e io sono andato in Italia, io stio che sono, cioè scusa, è che ci sono situazioni qui in Italia, ma se tutti in Moldova c'è questa voce a fare, risolviamo, è un fornitore vostro, un fornitore, di ulei di maslino, di spoleto, in città, cos'è ora, cos'è ora, da che emerge la numero uno, di un esempio, lì c'è la Puschi, no, che io non li accuso di discutere, ma amabili, che noi sottiamo clienti e ne tuteliamo, no, da che noi, c'è un'associazione di tutela, clienti, di tutte le cose, che noi immergiamo, che non abbiamo tempo, se controlamo, numero, eccetera, e ne tuteliamo noi, no, dopo amabili, spuremo, no, no, dove sono? e ho scoperto che a colo non è appuso, si intempla a realtà delle molte delle produsse, dopo produsse che non viene in stranetate muschie, dell'esempio, differenza entre aur, si arginti, non è principio qua, perché è entrato, ma aur, si arginti, è mare differenza, non è extravergine di oliva, e ce va, virgin, domne, freste, cuode varata, spremitura, come si spune, spremitura, pecelle maibune, se leccate, trebu è obbligatorio creare grado di acidità attate dei gios, da che non si prende a cesta olei, si trimite l'oleifici, non stiamo come si spune, e viene prelucrata, profumata, se ce va, è un produsse chimicale, in regola, è asta, asta è olei e masline, adicca olio di oliva, costa, giumatate, dei giumatate, dei giumatate, sau camascià, cuolei extravergine di oliva, costa, attate, è attate scomparpe, astano, dar a colo, da che merges, voi vedete che ne iscialla, ebbene, se stia che è fidesco, faccia astano, forcette camascià, dar a numero uno, mi separa, no? ecco, dar a colo, da che vedete, scrive, codde o, aur, verificaz, da che lo schimare, credo insieme anche io sono implicati, non credo, credo che ne iscialla, in certo caso, un italiano, cioè io un italiano, ho così un italiano, non mi interesserà, invece, scusate, noi siamo, in totale un'unica, noi ne dividiamo in tre onesti, ci disonesti, no? attraversi, ci disonesti, no? Grazie a tutti